Avanti, è permesso? Prego, prego. Come va? Buongiorno. Buongiorno. Questo è l'ufficio Anagrafe? Eh, ciao, si è uscita, che domanda fanno? Si è uscita, l'ufficio Anagrafe, va bene. Eh, che vi serve? Mi serve un certificato se era possibile. Come? Tutto è possibile. Ditemi come vi chiamate? Io sono il signor Di Domenico. Di Domenico? Sabatiello. Di Domenico? Sabato? No, oggi è giovedì. Per piacere, non scherziamo, di? Di Domenico, Sabatiello. Ho capito, di? Di Domenico, Sabatiello. Giovanni, che giornate che schierate? Ma questo non capisce niente proprio. Eh, ma io sono tre volte che faccio, ma non è che usciamo così? Buongiorno maestra. Mario, perché ho fatto tardi? Perché avevo un problema di saluto. Cioè? Saluta uno, saluta un altro, e ho fatto tardi. Amore, amore. Prego. Grazie. Amore, hai visto in che bel ristorante ti ho portato? Sì, sì. Amore, amore, ma che mi hai regalato per San Valentino? Eh, amore, hai presente quella bellissima Ferrari Testa Rossa che abbiamo visto ieri in concessionaria? Sì, oddio, oddio! Ecco, ti ho comprato uno smalto dello stesso colore. Amore, dove va? Oh, maronna, sei bloccata l'ascensore! Ah, finalmente. Buongiorno, ma quando mi è meglio stare qua, dì? Signor Dera Nato, dove ti senti? Eh, ma la da benvenuta, dottor. Alzatevi, ragazzo, andiamo a bel fegato, come stai? Ah, ah, apriam, apriam, dottor, non spingete troppo. Abbiamo un po' il cuore. Il cuore, il cuore? Dove sta, dottor? Sto dietro Models. Dottor, sapete che ho pensato? Io vorrei andare in pensione. No, è troppo presto! Si sente ancora il battito!